La foto non è semplicemente un prodotto nell'epoca della tecnica, ma la foto trasmette e favorisce una relazione. Ci si incontra con realtà e sguardi, pensosi, e tu crei un rapporto e una relazione. Il territorio riceve il respiro del mondo, perché in questo caso non sono tanti i migranti, ma sono i volti del mondo che ci raggiungono e che raggiungono il territorio in una sua peculiarità, che è la sua agricoltura.